Ragazzi, avevo ragione, avevo ragione, avevo ragione! Wabalabadabdab e bentornati su No Mamamazzo. Parliamo ancora di Loki, episodio 6, episodio finale di stagione. Una stagione, un episodio che è riuscito a spaccarmi in due senza obiettivamente fare nulla di che. Andiamo bene a capire cosa sto per dire. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che vivono nelle altre linee dimensionali e di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questo episodio, questa serie e di questo video. Ovviamente iscrivetevi anche se ci avete voglia, pure agli altri miei social, così per rimanere aggiornati su tutto quello che faccio negli altri miei social, tra cui Instagram e il sito Viola, che al momento è fermo, ma voi scrivetevi, poi qualcosa faremo insieme magari. Due paroline no spoiler su questo episodio e sulla serie in generale. Loki, l'episodio finale conferma che questa è un'intera serie dove si parla molto, semplicemente si parla per la maggior parte del tempo e ci sono spiegoni, spiegoni a tutto andare. Nella prima puntata Loki e Mobius parlano, nella seconda sì, c'è un po' d'azione. L'azione c'è in questa serie ma è molto, molto dosata, dosata bene ma è dosata, e si parla anche lì, c'è un confronto tra Sylvie e Loki. Nel terzo episodio è quello più filler di tutti, come tutti l'hanno soprannominato, anche lì si parla, c'è tutto un dialogo dove si esplorano Sylvie e Loki. Nel quarto è quello un po' più fuori di testa a livello di avvenimenti, ma se lo guardate di nuovo noterete che quello che hanno detto in 45 minuti potevano dirlo comunque in 10. Nel quinto, anche lì, è stato un po' un riempitivo per andare al sesto episodio, dove anche lì succedono delle cose molto interessanti ma che principalmente sono delle gag e la storia non è che va avanti di chissà quanto, e anche in questa puntata fondamentalmente si parla attorno a una scrivania. Ma allora perché questa serie e questo episodio ci ha spaccato le menti? Perché la forza di questa serie sta in quello che non viene detto. La forza non è tanto in quello che viene mostrato, ma nel non detto, nel fatto intuire. Il sesto episodio si apre sulla casa, sulla cittadella che abbiamo visto nel finale del quinto episodio. Chi c'è all'interno di questa cittadella? Chi è l'uomo dietro alla tenda, per citare il mago di Oz? Vediamo chi ha avuto ragione, chi ha avuto quasi ragione, e cosa comporterà questo per il futuro di tutto il Marvel Cinematic Universe. Ragazzi, spoiler tra 3, 2, 1. Innanzitutto cominciamo con l'intro, ragazzi, l'intro dei titoli di testa, che non solo aveva la sigla ormai rodata, collaudata, del Marvel Cinematic Universe, ma anche tutte le varie frasi degli attori, tutte le varie frasi più importanti degli Avengers. Mi ha davvero fatto saltare sulla sedia perché ho detto oddio, vuoi vedere che adesso tutte queste frasi non contano più niente perché si spazza via la realtà. mentre dicevano queste frasi si saltava come da una specie di buco nero all'altro, come se appunto passassimo dalla realtà del Marvel Cinematic Universe a un'altra. Se notate, nella secondo buco nero dove entriamo, tutte le frasi più importanti sono frasi storiche, realmente accadute, come se ci fosse la nostra realtà, la realtà dell'MCU e altre realtà. e già da lì ti fanno capire quello che andranno a fare. Questa cosa mi ha, mamma mia, mi ha davvero spiazzato. Poi però, come è sempre accaduto appunto anche negli altri episodi, c'è stata una puntata molto tranquilla dove ci si è seduti davanti a una sede a chiacchierare. Va bene, va benissimo, eh. Anche perché hanno dato l'ennesimo spiegone dal momento che gli spiegoni dei primi episodi erano leggermente faziosi dal momento che ci sta mentendo la TVA qua, si capisce cosa c'era di vero, cosa c'era di falso, con questo spiegone reale. Quindi chi è l'uomo all'interno della cittadella? Molti avevano supposto che era un altro Loki, un Loki anziano che voleva il controllo. Francamente questa teoria per me non aveva assolutamente senso, non ha senso che sia un altro Loki. Ma l'avete vista la serie? Perché doveva essere un altro Loki? No, ci doveva essere una persona nuova, una persona dietro a tutto, una persona, un personaggio che ci avrebbero fatto solo annusare qua dentro per poi svilupparlo meglio nel futuro del Marvel Cinematic Universe. L'uomo, soprannominato dall'intelligenza artificiale Miss Minut, quella specie di orologio olografico, colui che rimane, colui che rimane oltre il tempo, è apparentemente una persona normale. Si aprono delle porte di, chiamiamolo, un ascensore, e ci vede sto tizio con un mantellino viola, un ragazzotto di colore, con i sandali, ai sandali, guardateci bene. È apparentemente, appunto, è un umano, un umanoide, è apparentemente un terrestre. Non ha certo l'aspetto che ci aspettavamo di vedere, cioè quello che corrisponde ai fumetti, ma la sua descrizione corrisponde. Uno scienziato del trentesimo secolo che ha scoperto come viaggiare nel tempo, definito in moltissimi modi, tra cui anche un conquistatore. Ragazzi, abbiamo a che fare con Nathaniel o Nathaniel Richards. Kang, il conquistatore, è arrivato. E voi direte, cavoli, ma come fa a saperlo? Che non si è capito, non l'hanno detto. Effettivamente non si è capito. Una persona che non sa vagamente chi è Kang, una persona anche solo che non ha letto nulla, neanche un Wikipedia, non può capire chi è questo personaggio e non gli dice nulla tutta questa puntata. Ma dal momento che è dalla prima puntata che pensavamo tutti a Kang, chi più chi meno, comunque una sfogliata su chi è Kang, su cosa c'entra con il Marvel Cinematic Universe, anche perché lo vedremo nel film come villain Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, quindi almeno una spolveratina su Kang. Almeno io ero andato a vederla. E effettivamente quando il personaggio si è descritto come uno scienziato del trentesimo secolo, già io lì sono scattato sull'attenti. Questo, ragazzi, è Kang, o quantomeno è il Kang della nostra linea temporale. Come lui stesso ha detto, ha creato la TVA per proteggere questa nostra linea temporale dalle altre linee temporali, dalle altre realtà. Ebbene sì, in questo contesto realtà alternative, multiversi, se così vogliamo chiamarli, e linee temporali hanno lo stesso significato. Ma è nato prima l'uovo o la gallina? Allora, a quanto capito, nel trentesimo secolo questo scienziato, che nei fumetti si chiama Nathaniel Richards, qua non lo chiamano, magari cambierà nome, non lo sappiamo, però questo scienziato nel trentesimo secolo scopre che esistono terre alternative, terre infinite, per citare la DC Comics, dato che mi ha ricordato un po' molto anche Monitor e l'Antimonitor, questa storia di Kang nell'MCU. Scopre che esistono altre realtà oltre alla sua, universi paralleli. E proprio perché è lui a scoprirlo in questa realtà, anche nelle altre realtà è sempre lui, sono varianti di sé che scoprono la stessa medesima cosa. Ma non tutti i Kang sono esattamente magnanimi come questo, che si è limitato a controllare la linea temporale. Come lui, i suoi doppelganger hanno scoperto le realtà alternative, universi alternativi, ma così come c'erano persone mosse solo dalla conoscenza, quindi andare nelle altre realtà per migliorare la propria tecnologia, la propria cultura e accrescere la propria linea temporale, c'erano anche versioni di sé, tra cui probabilmente una versione che vedremo in Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, che desideravano solo conquistare tutte le realtà possibili. E così pare che il nostro carissimo di questa linea temporale, il nostro caro Proto Kang, ha ben pensato, una volta fatta la conoscenza del carissimo Alliot, la nube vivente che si nutre della realtà, ha pensato di addomesticarla, di farla diventare un'arma e di fargli mangiare, a quanto ho capito, tutte le altre versioni alternative delle altre linee temporali, tutte le altre diramazioni. Una volta spazzato via tutte le altre versioni di sé stesso, tutte le altre versioni della nostra realtà, ha deciso di creare la TVA e di, suppongo io, collocarla all'inizio dei tempi. Quindi i tre custodi non ci sono mai stati, è sempre stato solo uno, è sempre stato solo Kang, non ci sono stati tre Kang che hanno litigato, una cosa che mi sarebbe anche piaciuta, perché avrebbe spiegato anche il numero tre dei custodi del tempo e l'aspetto dei custodi del tempo, ma occasione sprecata, c'è sempre stato solo lui, almeno in questa realtà, e ha creato la TVA. Come ha creato la TVA? Non potendo creare persone dal nulla, dato che è un essere umano normalissimo, ha semplicemente iniziato a rapire persone nei primi tentativi di diramazioni temporali, queste persone ha iniziato a rapirle per arruolarle nella TVA. Lui ha fatto in modo che ogni tentativo, anche minimo appunto, di creazione di una sliding doors, di una linea temporale alternativa, fosse stato soppresso da questa TVA, in modo che queste appunto linee alternative non potessero diramarsi troppo per creare di nuovo una nuova realtà che poi potesse essere di nuovo scoperta nel trentesimo secolo dalla versione di se stesso del trentesimo secolo di tutte le realtà e dare di nuovo inizio a una guerra del multiverso. Quindi questa parte che ci hanno raccontato nell'episodio 1 è vera. Non è vero che c'è una sacralità della linea temporale, non in senso stretto, non è un essere superiore che la controlla, è un essere umano come noi che sa a cosa andremmo incontro se non ci fosse questo controllo. Il nostro caro Kang si è posto alla fine dei tempi, alla cittadella, alla fine di ogni cosa conosciuta, all'interno della linea temporale, ed è per questo che lui conosce ogni mossa fatta quasi fino alla fine, da tutti i vari lochi, per arrivare fino a lì. E con tutta probabilità lui, che tiene un occhio alla fine dei tempi, ha posto la TVA all'inizio dei tempi come supponevamo in qualche altro nostro video, non so se in due video fa, probabilmente la TVA è davvero nel regno quantico, anche perché se non c'è qualcosa di mezzo di soprannaturale che lo impedisce, non si spiega perché non funzioni la magia nella TVA, se non che probabilmente sia talmente piccoli, talmente infinitesimali, che la magia non riesce a svilupparsi. Non so come spiegarlo bene, ma se andate a indagare alcuni fenomeni della fisica, certe cose a determinate grandezze non funzionano come a questa grandezza. Ecco, il discorso è quello. Ed è per lo stesso motivo che probabilmente le gemme dell'infinito presenti nella TVA non funzionano, ma nella linea temporale dove c'è la cittadella in realtà funzionerebbero. Per questo che vediamo che i due Loki, Loki e Sylvie, riescono a utilizzare la loro magia nella cittadella, perché la cittadella non è al di fuori dal tempo, è semplicemente alla fine del tempo. Il nostro Loki capisce la portata di quanto sia pericoloso tutto ciò, di quanto sia pericoloso la possibilità che un Kang da un'altra terra, tra parentesi, nei fumetti, Kang, viene proprio da un'altra terra, quindi il cattivone che vedremo nella prossima fase del Marvel Cinematic Universe non sarà questo Kang, ma un Kang di un'altra terra molto più cattivo. Loki capisce la pericolosità di questo Kang, talmente potente da poter spedire Thanos con il guanto dell'infinito nella TVA e renderlo effettivamente inefficace e quindi inizia a supporre che forse è meglio che la TVA esista, ma Sylvie, che è alimentata solo da vendetta, solo da rancore perché gli è stata portata via tutta la vita a causa di questo, è solo molto arrabbiata, vuole solo farla finita, l'è arrivata fin lì e non si fermerà di certo ed è per questo che nonostante le mille scuse di Loki e di Kang, uccide il nostro carissimo Kang con i sandali e pare che dia inizio appunto a una nuova guerra del multiverso, perché non francamente per una ragione che anch'io non ho ben capito ma avendo ucciso il Kang alla fine dei tempi ha diciamo impedito che questo Kang con l'aiuto di Miss Minutes controllasse la TVA e facendo in modo che tutte le le diramazioni non venissero segnalate e quindi si creano tutte queste migliaia di diramazioni dall'inizio dei tempi fino ad ora. Questo potrebbe far arrivare nella nostra realtà come se ci fossero sempre stati delle cose che prima erano in universi paralleli. Mi riferisco a i Fantastici 4 di cui hanno già annunciato un film ma anche gli X-Men gli X-Men si sa sono delle mutazioni genetiche naturali che come ho già detto se se non necessariamente per Magneto e Xavier che hanno radici nella storia del degli anni 40 degli anni della della seconda guerra mondiale ma anche se dovessero riscrivere Xavier e Magneto Wolverine è molto importante che sia vecchio che abbia almeno 100 anni quindi è probabile che con questo espediente riescano a far entrare anche gli X-Men come se ci fossero sempre stati nel Marvel Cinematic Universe sarebbe un'idea davvero coraggiosa e interessante anche perché già in Falcon e in Winter Soldier hanno strizzato parecchio l'occhio le possibilità che si hanno avendo acquisito la Fox hanno nominato Madripoor che era della proprietà proprietà del mondo mutante quindi del mondo della Fox che è stata acquisita dalla Disney adesso usano Kang che comunque è del mondo dei Fantastici 4 che era sempre della Fox quindi perché non dirci tra le righe che con Kang che viene dalla Fox uniranno finalmente i due mondi questo potrebbe anche creare una scusa finalmente per far vedere che ci sono altre versioni dell'Uomo Ragno tra cui quella di Tobey Maguire quella di Andrew Garfield che potrebbero collimare appunto nel film Spider-Man No Way Home che è successivo credo adesso sto facendo un po' di confusione a Doctor Strange and the Multiverse of Madness dove appunto Doctor Strange si dovrà occupare di un multiverso della follia e ci sarà Wanda lo sappiamo tutti e in Spider-Man No Way Home ci sarà Doctor Strange e lo sappiamo tutti quindi si stanno iniziando a vedere le fila di questa trama della nuova fase del Marvel Cinematic Universe per quanto riguarda l'episodio in sé e la serie in sé grandi piccole delusioni perché molte cose non sono state concluse è vero è stata annunciata ufficialmente una seconda stagione ma sti cazzi cioè io voglio capire dove cavolo è andata Ravonna io pensavo che l'avessimo vista quantomeno in una scena finale finalmente un bacio tra Sylvie e Loki ma Sylvie poi spedisce Loki da qualche parte nella TVA Owen Wilson il nostro Mobius che non si gode una gita su una moto d'acqua cazzo io quello volevo vedere e invece pare che Loki sia finito alla TVA ma Mobius non lo riconosca come Loki questo può significare due cose che l'ha spedito in una versione della TVA di una realtà alternativa ma non credo che il Tenpad abbia questo potere oppure l'abbia rispedito alla TVA ma tra le tante diramazioni che ci sono state naturalmente dopo che lei ha ucciso Kang diciamo Loki in qualche modo o volontariamente da Sylvie sia stato cancellato diciamo dai radar della TVA in modo che la TVA non desse la caccia a Loki ma questo ha fatto in modo che Mobius si sia dimenticato del nostro Loki e questo davvero mi ha spezzato il cuore perché nell'episodio precedente si erano abbracciati Loki aveva finalmente trovato un amico e ora non ce l'ha più non si ricorda più nemmeno chi è Mobius Mobius non si ricorda nemmeno più chi è Loki questo mi ha davvero spezzato il cuore però attenderemo la seconda stagione sicuramente di tutto queste cose le vedremo spiegate si spera nella prossima stagione non interferiranno con i film con i film ci sarà semplicemente la versione alternativa di una terra alternativa di Kang in Ant-Man and the Wasp Quantum Mania quanto meno è quello che io ho capito come posso essere certo che questo personaggio ragazzotto di colore con la mantellina viola con i sandali fosse Kang beh ragazzi se andate a vedere quell'attore interpreterà proprio Kang nel film Ant-Man and the Wasp Quantum Mania quindi è davvero Kang ragazzi che dire sono molto contento di aver fatto questo viaggio insieme a voi di aver guadagnato un po' di nuovi adepti un po' di nuovi iscritti a questo canale dove finalmente si potrà parlare un po' di più di Marvel perché comunque ci sarà tanta carne al fuoco vi ricordo che è uscito anche il mio video a caldo quindi un po' chiacchierone un po' confuso su Black Widow se volete guardarlo ve lo consiglio ve lo metto qua in descrizione nelle schede ovunque mando per posta a casa io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui in questo video vi ricordo che i video pressoché usciranno due tre volte a settimana attivate la campanella notifica io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci a qui Grazie a tutti